si prepara a definizio deciso da affrontare i giudici con grande serietà prendo da napoli provincia di serenno sto spilettando non si spiletta nocchetti di licotta con vellutata di piccolta con profumo di ricotta il sogno è di entrare nei primi sedici vabbè non lo so il sogno è di entrare nei primi senti secondo me tu stai raccontando tante palle qua certo salve ciao sono definizio tu sei un paraculo simile è molto bravo io ho fatto l'arbeghiero si vede ma non hai mai lavorato in vita tua no non ho mai lavorato non si usa il mio paese si vede pepe no piselli so che a voi piace appena oltre la colta di speck ma le fate dei gnocchetti certo si vede quale finizio fresco rotta fresca piselli freschi pecca fresco i piselli li ho sbucciati personalmente ieri sera chi li doveva sbucciare scusa marco giordano ho usato troppa farina eh troppa prima o poi ti sparano che avevo voluto un amico secondo me questo era il piatto che hai portato all'esame dell'alberghiero vero i prodotti della terra c'è una squintalata di farina certo non avevi l'uovo non avevi il timer non avevi esce non avevi guaglia cioè voglio dire sei in grado anche non so di sfilettare un alberghiero eh sì però il baghiero non so sfilettarlo questo non sapere niente piatto far chifo piatto far chifo 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 è mangiabile buon nigno quanto meno le hai comprati bene eh non ciò sanno non ciò sanno ola sono duri sti gnocchetti quanti anni hai? non so comunque hai fatto domande difficili non ho fatto domande difficili no l'ingrediente principale della pasta alla norma quale sono? è una pasta no non sai oh ma questo è siciliano Joe cosa sono le sceglatelle? le sceglatelle tipi selli no i speck no Gigi Finizio no gallina gallina sì 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 scusami per me è no non si usa il mio paese scusami per me sì per me è un sì va bene per la simpatia per me sì per me no e comunque non corro in moto per me è un po' per me è un po'